Buongiorno, buon pomeriggio, qua ci troviamo al nuovo di via Olimpia, di Castelfrentano, è l'ultimo giorno della settimana di allenamenti in questa fascia orario delle 16 e 30 e seguenti sono scesi in campo per la seduta di allenamento i ragazzi e ragazze della categoria pulcini e esordienti sono tutti a debita distanza tra di loro, sono in allenamento senza alcun contatto, in ottemperanza alle disposizioni emanate dagli esperti e dalla federazione, recepite dalla società, la Virtus.Castelfrentano, e trasmesse ai suoi ragazzi. In quest'altra porzione centrale del campo ci sono le ragazze, le ledi giallorosse, alla sede mister Gabri, a questa trovata c'è un altro gruppo sempre, di pulcini e sorvienti, c'è il mister Anna, ecco, non si vede là in fronte, la dietro ci sono due portieri con il loro preparatore, il signor mister Raniero, ecco, mister Gabriele con le mani dette in ritmo alle ragazze, alle ledi, sono facilmente riconoscibili dalla casacca rosa. E là sopra quella è una struttura pure che è facendo parte di questo complesso sportivo, la c'è un campo calciotto, un pattinodromo, ci sono dei ragazzi, quelli sono gli amatori, sto scherzando. da sicuro che ci sia qualche ragazzo che gioca con noi, che non è la sua giornata di allenamenti. Questo è l'impianto, il nuovo di via Olimpia, con il manto esborso rimesso a nuovo nei mesi scorsi, manca ancora dei ritocchi, sia dietro le porte. Quella struttura sono i vecchi spogliatoi, adesso adibiti così a magazzino, i spogliatoi stanno tutti dietro di questa tribuna. Ecco, i nostri ragazzi hanno ripreso gli allenamenti suddivisi per categorie da martedì scorso, se non erro. hanno fatto tutte le categorie tre giorni questa settimana. Oggi è l'ultima giornata, venerdì 30 aprile 2021. Allora, come stavo dicendo, là ci sono le leggi giallorosse, una parte di ragazzi sta qua, un'altra parte sta di questo altro lato. Ecco, là in fondo sono i due portieri con mister Danievo, riconoscibile da quella t-shirt sul rosso granata, da qua non si vede tanto. Questo è il nuovo di via Olimpia. Alle prossime riprese, qua dal nuovo di via Olimpia, vi saluto a tutti. Sì. 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 Sì.